Ciao a tutti e bentrovati nel canale di Paschi 63 Siamo qui nuovamente nel mio allevamento per andare a parlare delle difficoltà che ci possono essere in un allevamento Per allacciarci al primo episodio, se vi ricordate abbiamo parlato dell'allevamento Come più o meno deve essere, certo consideriamo una cosa che in 14 minuti ho spiegato bene o male I principali problemi che uno può riscontrare nel proprio allevamento Detto ciò, oggi noi cosa andremo a fare? Andremo a parlare della pulizia Io mi sono distribuito praticamente quello che devo fare durante tutta la settimana Cioè a dire, io per prima cosa quando entro in allevamento la mattina La prima cosa dobbiamo andare a mangiare ai nostri animali E la seconda cosa devono bere Io mi sono aggiustrato durante la settimana Che mi sono scritto quando devo fare delle determinate cose Così ho uno schema di lavoro Io praticamente il lunedì vado a togliere tutte le griglie e i posatoi dalle gabbie Per pulirli Ora vi voglio spiegare una cosa molto importante Intanto io le griglie le lavo ogni settimana Ogni lunedì Inizio a togliere le griglie sporche e mettere quelle pulite Perché questo è un lavoro che si deve fare ogni settimana In quanto il camerino nel momento in cui sporca quelle griglie E magari vede le feci Li va a mangiare Questo non deve succedere Perché queste sono patologie che il camerino si può infettare Quindi dobbiamo evitare di farci mangiare le proprie feci Perché loro purtroppo li mangiano Qui ci sono le griglie pulite Come voi vedete E li vado a togliere Vi mostro le griglie quelle da me come sono sporche Io penso che si nota leggermente che siano sporche Io le griglie le tolgo per due motivi fondamentali ogni settimana La prima è quella di non far ridurre la griglia troppo sporca Perché poi mi viene male a pulirla Quindi nel momento in cui io la lascio così dentro la vasca Perché ora vi faccio vedere dove la vado a mettere Io a 5 minuti praticamente ce l'ho di nuovo pulita La seconda invece è il fatto che loro stanno nella pulizia E non mangiano la cacca proprio che fanno direttamente a loro Mentre la seconda cosa che quella la faccio ogni 15 giorni Vado a cambiare i posatoi Perché i posatoi è importante In quanto come voi vedete C'è un foro Dentro il foro si annidano gli acari Se noi non lo facciamo periodicamente Fa sì che il nostro allevamento Si annidano tanti batteri Compreso appunto acari e compagnia bella Che poi noi con il tempo Non riusciamo nemmeno a debellarli Questo lavoro qui Io praticamente lo faccio ogni 15 giorni Riempiamo la vasca E andiamo a mettere le nostre griglie All'interno Io nell'acqua ho messo candeggina Questa candeggina Questa candeggina la lascio almeno per circa un'ora e mezza Due ore Quindi uso io l'acqua calda Per andare a pulire le griglie e i nostri posatoi Poi vi voglio far vedere un po' come sono ridotti i posatoi Io penso che si nota Scusate la luce perché qui praticamente siamo fuori Quindi chiudiamo e aspettiamo quelle poche ore per iniziare a pulire il tutto Andiamo a pulire le griglie Perché praticamente a questo punto già saranno pulitissime Ora io vi faccio notare pure all'interno della vasca le griglie che ci sono Questo io ve lo faccio vedere per farvi notare Tutto lavoro che bisogna fare E non dobbiamo dimenticarci di questo lavoro Perché poi quando voi mi scrivete sotto nei commenti Pasquale ho gli acari Pasquale i miei canarini nelle zampe hanno le squame Pasquale come mai sono sporchi Pasquale Perché principalmente questa cosa è una cosa che dobbiamo curare molto frequentemente Perché così facciamo sì che gli acari non annidano Non si annidano Questo è il mio consiglio che vi do Io poi li pulisco con una scopa come vedete Considerate che ho cambiato l'acqua Come vedete sono ritornate di nuovo integre e pulite Le andiamo a mettere per qui Proprio perché già li levo puliti Basta una passata Che la griglia ritorna come nuova E vado a ridurre anche il tempo della pulizia che devo fare io Andiamo a sostituire pure le griglie di queste gabbie Che poi queste di qua sono le voliere da 120 Leviamo questo bagnetto Prendiamo il tutto e lo andiamo a lavare Perché anche queste cose qui si devono sciacquare e lavare In pratica noi cosa stiamo andando a fare Noi stiamo facendo prevenzione Prevenzione per non farci sorprendere Dagli acari Dalla sporcizia Da problemi che può avere in seguito l'animale Facendolo vivere in un locale sporco E così via Vado a levare anche la carta Così vi rendete conto come io levo la carta del mio allevamento Volevo suggerirvi anche un altro piccolo vantaggio Io nell'allevamento ho montato tutte le gabbie Il sistema carta Periodicamente Che quel periodicamente per me è Ogni dieci giorni Io vado a togliere tutta la carta di tutto l'allevamento Che ora vi faccio vedere come faccio In pratica Tiro E la appoglio Preferibilmente siccome è lunga Io la taglio Se no nella spazzatura praticamente non ci entra E ricomincio di nuovo Ora questa carta Io la vado a togliere Intanto per maggior pulizia E poi vi voglio dire anche un'altra cosa Non so se vi siete accorti Nel vostro allevamento Che più va avanti La stagione calda Più si vanno vedendo Quelle farfalline Ora quelle farfalline che poi alla fine ci insegnano E' proprio questo Quando noi lasciamo troppo La scagliola a marcire sotto il fondo della carta Di conseguenza tra umidità e la sporcizia Perché poi gli fa la scagliola queste farfalline Ci impestiamo di queste farfalline Non è che dico che uno deve toglierle tutte al 100% Però noi sicuramente andiamo a togliere almeno per una buona percentuale Di formarsi queste farfalline periodicamente nel nostro allevamento Che sono anche fastidiose Vi consiglio di fare questo lavoro ogni 10 giorni Poi c'è da dire anche una cosa molto importante Più volte lo fai Prima devi andare dal commerciante a comprare la carta E tutto quello che noi andiamo a realizzare In allevamento Sicuramente a un costo Buonissimo come La terapia Salire La terapia Il dysfunctione Il dysfunctione Per이언ivamente a comprare la carta Spar Joker Serv frozen Ai dragmi Rai Perseto inseriamo di nuovo la carta e praticamente la carta è rimessa ed è pulita questo è quanto sperando che il video vi sia piaciuto spolliciate condividete ditemi la vostra qui sotto ciao ciao a un prossimo video